Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Lovasco, Product Manager Maschio Gaspardo per la gamma protezione delle culture. Oggi siamo in Polonia per presentarvi Campo 44 Isotronic, il nostro polverizzatore trainato con capacità fino a 4.400 litri e protocollo di comunicazioni Isobass. La configurazione che abbiamo qui con noi, omologata per la circolazione stradale a pieno carico, con un sistema di frenatura pneumatica e con barra da 28 metri, garantisce il massimo della precisione e del comfort di utilizzo per gli agricoltori. Ma scopriamolo insieme da più da vicino. La fase di carico e miscelazione è una delle operazioni più importanti per la buona riuscita dei trattamenti. Il pannello di controllo a bordo macchina M-Panel rende tutto più semplice ed intuitivo. Equipaggiato di serie con attacchi per riempimento sia in pressione che non, fornisce grande flessibilità di utilizzo. L'incorporazione dei prodotti fitosanitari, anche quelli più ostici come granulari o in polvere, è sempre garantita grazie alle pareti con flusso antistagnazione e all'ugello miscelatore sul fondo. Inoltre all'interno della cisterna sono presenti ben 12 agitatori idraulici che permettono di ottenere una miscelazione sempre omonogenea. Con il sistema di ricircolo in pressione RED facilmente riconoscibile da questi tubi rossi, è possibile iniziare i trattamenti con la certezza di avere tutte le sezioni sempre pronte all'uso. In capezzagna non ci sono più tempi di attesa, prevenendo la formazione di aree non trattate. RED garantisce la massima qualità dei trattamenti, infatti con il ricircolo continuo all'interno delle tubazioni riduce la sedimentazione e aumenta l'omogeneità della miscela. La gestione del polverizzatore in capezzagna può essere una sfida, ma con campo 44 isotronic, preservare le culture ed eventuali danneggiamenti in fase di manovre non è mai stato così semplice. La sale sterzante permette di seguire con estrema facilità e precisione le traiettoie del trattore, anche in caso di forti pendenze. Il tutto in modo completamente automatico, per il massimo comfort dell'operatore. Una barra stabile garantisce la corretta applicazione dei prodotti fitosanitari, meno stress per l'operatore e prolunga la vita complessiva dell'irrodatrice. Campo 44 isotronic è configurabile con diverse barre. Qui abbiamo Ala 900, una barra che coniuga affidabilità, robustezza e stabilità. È installata su un parellogramma a doppia ammortizzazione idroprumatica ed è dotata di un sistema di livellamento a doppio pendolo che garantisce un rapido riequilibrio delle oscillazioni in lavoro, permettendo di avere la barra sempre parallela al terreno. Le punte con sicurezza 3D e i getti protetti all'interno della struttura barra preservano la funzionalità della barra minimizzando i fermi macchina in caso di urti. Se ci sono pendii, nessun problema con Ala 900. Infatti è dotata di geometria variabile con ammortizzazione idroprumatica che permette l'inclinazione indipendente dei bracci laterali. E per minimizzare attivamente gli effetti negativi sulla qualità dell'irrorazione dovuto alle regolarità del terreno abbiamo Distance Control. Si tratta di un sistema completamente automatico che grazie a sensori ad ultrasuoni gestisce l'inclinazione ed altezza della barra per mantenere una distanza ottimale dalla superficie bersaglio su tutta la lunghezza di lavoro. Nella versione Pro vengono gestite in modo autonomo e indipendente anche le geometrie dei bracci. Infine Campo 44 Isotronic è dotato di sospensione idroprumatica della sale che consente di lavorare con estrema stabilità a velocità elevate anche sui terreni più accidentati. Oggi è sempre più necessario avere tutto sotto controllo. Campo 44 Isotronic sfrutta tutte le potenzialità del protocollo di comunicazione Isobus permettendo così di lavorare in una logica di agricoltura di precisione. È possibile quindi sia l'applicazione a rate o variabile su tutta la lunghezza della barra per massimizzare il rendimento dei prodotti fitosanitari che la gestione completamente automatica delle sezioni per una maggiore precisione, efficienza e sostenibilità dell'applicazione. Alla 900 infatti gestisce da 9 fino a 13 sezioni come questa versione. Oggi abbiamo visto a lavoro Campo 44 Isotronic la versione da 4.400 litri ma abbiamo a disposizione anche Campo 65 Isotronic versione da 6.500 litri barre ad oggi fino a 36 metri ma a breve oltre 40. Il tutto per aumentare l'efficienza giornaliera. Che dire, Campo 44 Isotronic e Campo 65 Isotronic rappresentano la soluzione ideale per garantire la massima precisione e comfort di utilizzo durante il trattamento delle culture. Un'operazione sempre più cruciale per i nostri agricoltori. Maschio Gasparzo, Growing Together.